Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un libro che ho letto di recente e che mi è piaciuto molto. Tra l'altro sta anche sbancando incredibilmente nelle classifiche, cosa assolutamente non scontata, e il libro in questione ci pone anche un'ottima soluzione per quanto riguarda il cosiddetto blocco del lettore. Il libro è Le nostre anime di notte di Kent Arouf, uscito proprio quest'anno, è appena uscito per NNE Editore, e appunto secondo me è il libro ideale per affrontare eventualmente il cosiddetto blocco dello scrittore. Se ne è parlato molto su BookTube ultimamente di cosa significa il blocco dello scrittore, esiste, non esiste, cosa fare, come si fa, io sono dell'idea che non esista, o meglio, è normale che ci siano dei periodi in cui una cosa che ci piace fare non la vogliamo fare, perché ci sono altre priorità, perché ci sono altre passioni che in un dato periodo della vita hanno la meglio. Bisogna allontanare un po' l'idea della lettura come dovere. La lettura, per quanto sia una cosa secondo me fondamentale, non è un dovere, non deve esserlo, a meno che non lo si faccia per scopi lavorativi, come ad esempio il critico letterario o il giornalista, ma a prescindere non ci si deve sentire costretti a leggere un libro, cioè se non leggi per due mesi perché non ne hai voglia, non importa, la voglia torna da sola con il romanzo giusto che ti chiama al momento giusto. Quindi non è necessario leggere un libro dietro l'altro, però se proprio questa condizione di mancanza di voglia di leggere, o meglio, che mancano proprio dei libri che ti chiamano, inizi libri che poi lasci lì, secondo me questo nuovo romanzo di Kent Aroff può essere un ottimo candidato per allontanare questo senso di disagio. Perché? Innanzitutto Kent Aroff è uno scrittore americano che sta ottenendo una grande popolarità adesso, soprattutto grazie alla pubblicazione della trilogia della pianura, sempre perenne editore. Una trilogia di romanzi che sono Benedizione, Canto della pianura e Crepuscolo, tutti ambientati nell'immaginaria città di Holt del Colorado. Diciamo che a livello di narrazioni, narrazioni sempre malinconiche che in un certo senso si inseriscono in elementi tipici della letteratura americana contemporanea, tra cui una certa ricerca del minimalismo e del realismo, che troviamo anche in questo romanzo, che è il mio primo approccio all'autore. Questo romanzo è uscito postumo e mi ha subito affascinato sia perché cercavo qualcosa, un po' di passaggio, quindi un romanzo breve ma intenso, cosa che è, nel senso che è un romanzo che si legge in un soffio. Veramente io l'ho aperto sul treno e arrivato a destinazione e l'avevo già chiuso. Quindi è proprio un romanzo perfetto per chi eventualmente dice che ha poco tempo di leggere, ma che vorrebbe leggere qualcosa di bello, però non per forza una lettura frivola che non lascia nulla. Per quanto ci siano letture frivole belle, questa non è una lettura frivola, ma allo stesso tempo è facilmente approcciabile anche in momenti di grande crisi di lettura. Ed è una lettura semplice, essenziale, ma allo stesso tempo intensa. È un romanzo postumo che affronta, con personaggi sempre ambientati in questa cittadina, già presentata nella trilogia della pianura, affronta il tema dell'incertezza quando la morte è vicina, o quantomeno dell'incapacità di predire il futuro. Infatti molto spesso i personaggi di questo romanzo fanno delle domande rivolte al tempo futuro e la risposta è sempre l'incertezza. Quanto continueremo a far così? Non si sa. Funzionerà sempre così? Non si sa. Quindi è un romanzo in cui i personaggi vivono il presente con l'angoscia del futuro. Ed è proprio un romanzo che sicuramente rispecchia la fase di vita di Kent Arof che nel momento della vecchiaia aspetta il momento della morte. E mi è sembrato, nonostante il romanzo sia molto ben calibrato a livello di ritmo, mi è sembrato come se l'autore volesse finire questa storia il prima possibile per proprio avere il terrore di morire, perché le frasi sono essenziali, sono brevi, concise, non ci sono delle descrizioni così articolate, però allo stesso tempo non dà l'idea di essere un romanzo frettoloso, anzi dà l'impressione di essere un romanzo che nel suo essere minimale riesce a trasmettere un universo di sensazioni, che in questo caso sono malinconiche. La trama ruota attorno a due personaggi anziani che sono Eddie e Louis, sono entrambi vedovi e sono entrambi soli. Non hanno superato granché la morte dei rispettivi coniugi e sentono la necessità di incontrarsi. E quindi questi due vecchietti ogni sera dormono assieme, o meglio lui va a casa di lei, dormono, chiacchierano tutte le sere assieme. E da qua nasce un rapporto affettivo che non ha niente di sessuale, sensuale, romantico. È un aspetto che avviene per certi versi in modo molto soffuso nella seconda parte. Nella prima parte è semplicemente un rapporto di neanche amicizia, proprio l'esigenza di dormire assieme a qualcuno, di avere la consapevolezza di non essere soli. Il romanzo affronta un po' l'amore diverso per certi aspetti, sia perché non è un amore canonico, che per il fatto che è un rapporto derivato da due anime simili che si congiungono per combattere insieme la morte, in un certo senso il freddo, la solitudine della morte, e anche perché appunto è un amore della terza età, che in questa cittadina provinciale, chiusa su certe cose, non vede di buon occhio, perché è un amore che viene visto dagli altri come adolescenziale in un periodo dell'età in cui, secondo la quale, tutti coloro che non sono anziani credono che ci si debba arrendere al fatto, al destino. Ed è un romanzo che mi ha lasciato scosso. È un romanzo di una dolcezza infinita, che io ho amato molto, e mi è dispiaciuto di averlo finito in fretta, perché in verità io non volevo neanche divorarmelo, ma allo stesso tempo il romanzo mi inchiodava alle pagine, e per quanto io adori questo tipo di letteratura americana, molto spesso la trovo lenta, e quindi questo tipo di romanzi solitamente me li godo pian piano. Questo invece l'ho veramente divorato, e non solo per la lunghezza, che sicuramente, la lunghezza breve, che sicuramente si adatta a farsi divorare, ma anche proprio la scrittura, la descrizione di questo mondo, di questo rapporto soprattutto, perché a livello narrativo non succede nulla di eccessivamente eclatante, anzi la storia in sé è molto prevedibile, ma non è quello che interessa al lettore, e Kentaro fino a un certo senso lo sa. Al lettore pian piano iniziano ad interessare i personaggi veri e propri, e le sensazioni del loro rapporto, e quindi la lettura procede, diventa sempre più carica, ed è una cosa bellissima, perché il romanzo in sé, vi dicevo, è descritto in modo molto asciutto, non ha mai degli sfarsi, non ha mai degli appigli, non si dilunga mai, anzi molto spesso accorcia, anche dove dovrebbe dire qualcosa di più, ed è però nel suo accorciarsi, nel suo essere scritto di getto, riesce ad essere incredibilmente musicale, magnetico, ipnotico, e per quanto io l'abbia letto sul treno, se voi non vi siete ancora approcciati, ve lo consiglio come lettura della Buonanotte, per esempio, perché è un libro che non solo dalla copertina, non solo dalla narrazione, perché la narrazione e questi due anziani si incontrano di notte, anche se dopo iniziano appunto a sviluppare un rapporto, anche di giorno, escono assieme al ristorante, eccetera, eccetera, è una lettura che ci vedo bene, è notturno, anche a livello di mood, di sensazioni, molto tenero, ma è come un bacio della Buonanotte, questo libro, ed è... non saprei come descriverlo, l'ho trovato efficace, l'ho trovato elegante, l'ho trovato estremamente umano, e ve lo consiglio caldamente. Fatemi sapere se l'avete letto, se non l'avete letto, se vi interessa, non vi interessa, io vi aspetto al prossimo video, un bacione, alla prossima. Ciao, ciao. 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 Grazie.